No, sono tu i gassoni, mi chiamavo qua il vero, alzo la mani. Sì, sono tu qua. Com'è, mi chiede oggi o non mi chiede oggi? Eh no, come dai, finché, va, 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 va. Ma insomma, così si fanno i gremi. Scusi, Antonio, Antonio, siamo, vado, sono in diretta? All'intervista alla signora Serapis, dai. No, no, aspettate, no, questo in acciaio è meglio. È vero, è una di più micro. Che schifo, sembra una cosa pornografica. No, no, no. Come? Vai. L'inviato speciale da Telebrasio International, direttamente da Matera Festa della Blu. Un'esclusiva stasera abbiamo il compleanno di un operaio della Cowboys Food S.p.A. Stasera compie 19 anni, però lui non lo sa. Non lo sa che compie un nome, non lo sa che compie un nome. Non lo sa che compie un nome. Penso che non lo sa. Come lo fai sapere? Me l'ha detto la mamma. Adesso se, riprendi la torta, facciamo vedere la torta. Questa è la torta. Questa è la torta che sta facendo anche la torta. Sì, vado. Riprendimi tutta? Sì. Se non c'è la batteria. Riprendi la torta. Ma è maggiore N. Sono maggiore N. Ma è troppo in questo. Ma è la club. Ti prego, per favore. Se ce la filmo? Mi sono. Non l'ha messo una mamma e colpo. Buona, no. Per cortesia un attimo in suspense perché... Dovete fare un'altra? Un'altra. Doviamo prendere l'impastomino? No. ora c'è la mascaffè proprio si si, 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 si fa da fuocameramento allora, senta, allora che cosa dobbiamo festeggiare? il compleanno? il compleanno normale, sai, hai presente quando ho passato qui abbiamo Miss Chappen che sta facendo le cose ma non è la mascaffè ma non è la mascaffè attenzione, mi arriva ha portato anche la mascaffè ha portato anche la mascaffè siamo pronti per mettere la mascaffè iniziale si si, si, inizia a cucinare non ho capito che cosa vuoi fare l'ha tolto è la crema è la storia però è in silenzio cambiai, andrò con la crema riprendo io non ci sei nemmeno in un po' un po' un blocco direttamente dall'inviato ok, allora, adesso mandiamo la pubblicità pubblicità che ci dà volete una crepe? avete dato un crepe show wow siamo tornati qui dall'intervista di Matera, festa delle braciole della bruna e della bionda no, e fa l'ha detto mi tolto fusta e a te ma ma gli altri tonio, un momento secondo te andiamo alla pubblicità ok, pubblicità perché non c'è un museo in questo video non è più speciale